Vi introduco le nostre novità delle prese biologiche della Celli che abbiamo sviluppato in questi ultimi tre anni con i nostri dealer e gli agricoltori e l'abbiamo disponibile in gamma da un annetto e mezzo, è uno sviluppo abbastanza intenso. L'agricoltura biologica sta prendendo sempre più piedi i vari mercati mondiali e noi ci siamo focalizzati soprattutto in Austria, Germania e Svizzera dove abbiamo fatto un ottimo lavoro e stiamo aumentando il mercato, ecco le vendite. Le macchine in questione sono delle prese convenzionali con alcuni dettagli tecnici sviluppati apposta per un'impostazione adatta per il biologico che si concentra in una lavorazione del terreno minima dai 3 ai 5 cm di profondità con un taglio netto del materiale organico che sotto forma erbacea o legnosa. Abbiamo sviluppato delle ruote germelle per un'impostazione migliore di lavoro e di stabilità.